Negozi chiusi, strade deserte e controlli serrati. Impossibile entrare e uscire dai comuni senza autocertificazione. È questa la nuova quotidianità di Perugia e Assisi, da ieri in zona rossa. Assisi sinora non ha superato gli indici di contagio emergenziali. Tuttavia, anche nella nostra città, il senso di responsabilità, i singoli comportamenti, sono quelli che possono salvare ancora una volta la situazione. Con gli ospedali del Perugino al collasso, l'aiuto del volontariato è diventato necessario per sostenere le fasce più deboli. Abbiamo due comprensioni con l'Atla, una relativamente al trasporto per il Covid e una il 118. Dopodiché abbiamo attivo il Banco Alimentare, il Comune ci ha segnalato tutta una serie di persone bisognose. Dopodiché abbiamo anche una convenzione con il Comune di Corciano per il trasporto dei disabili a scuola. Il Sindaco Proietti si rivolge così ai suoi concittadini. Faccio un appello al senso di responsabilità personale dei nostri cittadini tutti. Insieme ce la faremo.